1 agosto 2021 La vera santità Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli, vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore Non comportatevi più come i pagani, con i loro uani pensieri Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo Se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti Secondo la verità che è in Gesù ad abbandonare con la sua condotta di prima L'uomo vecchio Che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli A rinnovarvi nello spirito della vostra mente E a rivestire l'uomo nuovo Creato secondo Dio nella giustizia E nella vera santità La differenza che passa tra l'esercizio della nostra buona volontà E diventare santi È sconosciuta fino a quando Non si ha una esperienza spirituale genuina Nello spirito di Cristo Cosa mi manca per essere perfetto? Chiedeva il giovane ricco A costui Gesù dispose di lasciare quello che lo legava alla terra e di seguirlo Gesù è l'esempio vivente della verità, della giustizia e della santità Non è dunque un elenco di valori scritti sulla carta Ma la vita concreta che Gesù ha condotto in tutti i suoi dettagli Gli apostoli ed il giovane ricco erano stati chiamati al privilegio Di conoscere da vicino come viveva Gesù La grazia della sequela Noi invece abbiamo la possibilità Attraverso la conoscenza della scrittura Questo è il primo livello di conoscenza Quello materiale Il secondo livello è quello meno conosciuto e praticato Ovvero quello spirituale Questo si acquisisce sulla base del primo Ma in certi casi può anche precedere Dare luce alla conoscenza delle scritture Le quali si illuminano dei significati profondi E delle loro armonie Che vanno praticati La conoscenza spirituale è anch'essa un dono di Dio Ma va scoperta e chiesta Scoperta perché appare come celata Seppur presente E questo permette di desiderarla E di richiederla Il dono dello Spirito di Cristo Avviene normalmente per mezzo dei sacramenti Ma pochi sanno mettere a frutto il dono costituito da un seme Troppi distratti e superficiali Troppi purtroppo coloro che nonostante i sacramenti Continuano con la condotta vuota Simile a quella dei pagani Il peccato impedisce la conoscenza di Dio Esclude dalla sua comunione Faccia i sensi che diventano barriera alla voce dello Spirito Dunque la condotta cattiva è impedimento allo Spirito Il peccato è un muro insormontabile Chi avesse avuto la grazia di una illuminazione Riguardo alla propria vita cattiva Non deve continuare a ricercare stati particolari di grazia Per il gusto delle cose spirituali Per se stesse Chi incontra il Signore come un lampo nella notte E' chiamato a guardarsi E' ad esaminare se stesso Cosa sia, cosa faccia Ed il confronto di essere fatto con la condotta di Cristo Queste prime luci Queste prime luci siano dunque Di esortazione ad uscire dal peccato A conoscere Cristo A imitarlo Secondo il Vangelo Dopo una vita rinnovata Con l'aiuto del Signore Si comprende che ogni sforzo E' buono Ma non sufficiente Ad essere come Gesù Eppure Egli Chiama ad essere perfetti come Lui è perfetto Santi come Dio è santo La chiamata è quella Ad avere gli stessi pensieri di Cristo E dunque la stessa potenza di amore per Dio Padre E per fare la sua volontà Quella che Gesù fece nella vita terrena Non è il sentirsi buoni che ci rende buoni Ma sapere di essere peccatori Eppure rivestiti di una forza nuova Che trasforma il peccato in virtù Tale forza nei principianti E' scambiata per virtù propria Cosicché si pecche di vanagloria Dando a se stessi il merito Ma i più avanzati nella vita spirituale Sanno che la forza per vincere il peccato E l'ispirazione al bene L'illuminazione delle cose sante Anche nei dettagli Viene solo dal Signore Il quale Quando siamo in stato di grazia Vive in noi Stabilmente Per questo San Paolo Ci esorta a rivestirci di Cristo Rinnovando la nostra mente Noi siamo abitati da Cristo E in Lui viviamo Ma ancor più calzanti All'espressione di essere vestiti E sopravvestiti L'abito nuziale Nella veste candida Lavata nel sangue dell'aniel E' quello stato di grazia Che riveste la natura umana Se i nostri sforzi doverosi Meritevoli Ci rendono puri Ma ci lasciano nella nostra umanità Questa viene invece rivestita Dalla veste dell'immortalità Quella della grazia Della santità Non possiamo darci quello che è di Dio Ma lo possiamo favorire e preparare Con la conversione della nostra mente Verso pensieri santi Abbandonando il peccato Solo allora la grazia della santità Come un abito del cielo Ci ricopre Vestendoci della stessa santità del Cristo Se inizialmente lo abbiamo seguito per imitarlo Poi siamo diventati amici Ed una cosa sola con Lui Mediante il dono del Suo Spirito Che ci fa parte del Suo corpo Della Sua anima Questo dunque è il livello superiore Di conoscenza di Cristo Questo è il camminare Nella giustizia e nella santità Non per merito Ma per grazia Non sono più io che vivo Ma Cristo vive in me Dio vi benedica Grazie a tutti Grazie a tutti.